Una città al confine tra due culture, infatti a pochi chilometri da qui c'è la Germania, è Strasburgo, la capitale dell'Alsazia, ma anche capitale dell'Europa in quanto sede del Parlamento europeo, una città grande di oltre 200.000 abitanti per lunghi tratti, molto moderna, ma che conserva un cuore medievale nel suo quartiere tipico denominato Petite France. Praticamente è un'isola circondata da un canale che in alcuni anfratti conserva ancora un sistema di chiuse su cui noi ci troviamo del resto. Attorno a queste chiuse, attorno al canale, le classiche case a graticcio medievali che formano un angolo veramente particolare da vecchia Europa, da aspetti ritrovati di un tempo che non c'è più, ovviamente circondati da ristoranti, negozi tipici, ma una zona che comunque ha mantenuto con la sua autenticità. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.